Insegnamenti al bullying Buonasera Come lo sto facendo? Sì, lo sto facendo Cioè, fiorè scemo perché non so se stavo facendo Il professore Il professore Con la palla Gli alunni I perdenti L'opinionista I perdenti I amici I sostenitori E ancora la studentessa Soprattutto l'istruttore Ficadiello che c'è Guardate il profilo Guardate il profilo Ficadiello Guardiamo sotto No, tutti i peli Allora, questa ragazza Ha un piccolo problema Chi? Quale ragazza? Ne vedo due Anzi tre Velo, non lo posso nessuno Mi rimangio tutto quello che ha detto È un piccolo problema Ce ne abbiamo resi con tutti Quindi adesso stasera Gli farò vedere come più o meno Si riuscirà a tirare Mi hai dato gli auguri stasera Scusi professore Allora, vedi, tu non devi fare così Hai capito? Non devi Non si fa Fai anche tu così, vai Devi avere la mano ferma No, no, no Applausi Applausi Grande Ripetiti Il maestro L'allievo non può superare Il mio semplice Allievo, forza Ci facci vedere No, no, no La gamba deve andare così Guarda sto Che gli perrese Chi? Anello Con magnifullio Con un canello Con magnifullio Mi vorrei senti chiamare Qua sei una merda C'è il suicidio di fiore in dire Tu facci Tu facci Tu facci Tu facci Poi sei mai la roba Poi sei mai la roba Poi sei mai la roba Pazzo Poi ho il telefono mio Ma la roba Ma qual è il problema? Qual è il problema? Ho un bacio telefono Ma 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 E qui parte La posa di elio e fiore Ripatelo 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 Ti faccio Vai Metti Fai così No E non guardare Mettila Vai Vai Mettila 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 L'allò Qui è come ti fa così Che stand Il Grazie a tutti